Coronavirus, riunione in prefettura, concordati gli interventi da attuare. Salvato da tentato suicidio, operazione tempestiva dei Carabinieri dell'Aquila. Movimento 5 Stelle è contrario a nuovi centri commerciali, lo ha ribadito il consigliere regionale Fedele. Rete idrica nella piana del Fucino, intervento costruttivo di Confagricoltura. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Nella serata di ieri, lunedì 24 febbraio, preseduta dal prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco, si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica dedicata all'esame della problematica connessa alla diffusione sul territorio nazionale del coronavirus. All'incontro hanno preso parte rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Regione, della Provincia, del Comune dell'Aquila e delle altre autorità sanitarie. Si è condivisa l'esigenza di raccomandare alla popolazione l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzza. Alle Forze di Polizia è stato affidato il compito di vigilare i luoghi di stoccaggio di farmaci e materiali sanitario e di presidi ospedalieri. In merito ai casi già accertati sul territorio nazionale relativi a falsi operatori di ASL e Croce Rossa e da proposte di effettuazione di tamponi porta a porta, si raccomanda di rivolgersi alle Forze dell'Ordine dove si presentassero tali situazioni e si ribadisce che le prestazioni sanitarie vengono effettuate esclusivamente nei presidi sanitari abituali e riconosciuti. Nelle primissime ore di oggi, in fece, quindi con responsabile tempestività, il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo ha reso noto che sono risultati tutti negativi al Covid-19 i test eseguiti nella tarda serata di ieri all'ospedale di Pescara su sei pazienti, tra cui tre minorenni legati al coronavirus. Tre campioni riguardavano pazienti dell'asla di Pescara, due quella di Teramo e uno quella dell'Aquila. Tutti provenivano da aree del Lodigiano, da cui erano partiti prima del blocco degli spostamenti in vigore da sabato ed avevano avuto contatti significativi con soggetti risultati positivi al contagio. Cronaca. Una richiesta di aiuto al 112, l'attivazione di tutti i servizi esterni, la corsa verso la zona indicata, il rintraccio dell'autovettura ancora in moto, una vita salvata. Sono questi i momenti più importanti dell'intervento effettuato domenica pomeriggio dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri dell'Aquila. In una tranquilla domenica di pomeriggio, una donna contatta il 112 e chiede aiuto poiché aveva il sospetto che il marito potesse trovarsi in pericolo. Infatti, poco prima, l'uomo aveva effettuato una strana telefonata alla moglie. Il rapporto con i gali, in crisi, le strane parole del marito ed il luogo dal quale chiamava hanno suscitato nella donna il dubbio che l'uomo potesse compiere una sciocchezza. Da qui la telefonata al 112 e l'attivazione della ricerca. Acquisita la richiesta, l'operatore della centrale operativa ha attivato tutte le pattuglie disponibili nella zona. La pattuglia della radiomobile è stata la prima a raggiungere l'area segnalata. Si trattava di San Pietro della Ienca. Percorsa la strada provinciale 86 in direzione Campotosto-Terao, i militari hanno così notato un'autovettura parcheggiata in zona boschiva con dei tubi che collegavano la marmitta all'abitacolo. Sono intervenuti immediatamente ed hanno estratto l'uomo ormai privo di sensi a causa del monossido di carbonio che aveva completamente saturato l'abitacolo. I due soccorritori hanno iniziato a praticare i primi soccorsi richiedendo l'immediato intervento di un'ambulanza evitando che lo stesso potesse portare a compimento l'insano gesto. Il personale della 118 ha provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo presso il locale pronto soccorso. Al termine delle prime cure è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove è tuttora in osservazione. Le organizzazioni sindacali provinciali del settore funzione pubblica CGL, Will e FSI hanno chiesto al direttore generale dell'Asl 1 Avezzano sul Monalacuila, Roberto Testa, un incontro urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da coronavirus anche per individuare i percorsi preventivi e differenziati, l'area di filtro e il retage nell'ottica di una proficua collaborazione istituzionale. Il tutto in riferimento alla recente circolare del Ministero della Salute. Specificano che preso atto che ad oggi non abbiamo notizie circa atti di indirizzo generale, circolari o informativa ai dipendenti. Rilevato che l'amministrazione garantisce servizio al pubblico e nel caso di specie cura ed assiste i cittadini, riaffermata la disponibilità in capo al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente per quanto attiene alla tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei dipendenti e per questi motivi chiedono di essere informati circa le azioni di merito che la ASL ha predisposto e dal proposito chiedono un incontro sindacale urgente per poter discutere dei corretti provvedimenti da adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori delle idonee procedure operative di profilassi. Il merito va ricordato che hanno predisposte aree dedicate al trattamento di persone sintomatiche che evitino la complessa della norma utenza dei presidi ai fini della prevenzione e dell'eventuale contagio e quindi della fornitura e utilizzo del personale dedicato coinvolto nella catena di emergenza anche con misure straordinarie che prevedono l'adeguamento della dotazione di personale. Insomma, una preoccupazione più che giustificata. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fadele, interviene sul tema delle autorizzazioni per nuovi parchi commerciali nell'immediata periferia dell'Aquila. Ho preso, afferma, con reale sconcerto, la decisione della Commissione Territorio del Comune di votare due variazioni urbanistiche preludio alla nascita di nuovi parchi commerciali nella periferia aquilana. Questo tipo di scelte rappresentano quanto di più lontano ci sia dalla rinascita e rivitalizzazione del centro storico della città, vero cuore pulsante cittadino. È un modo di agire anacronistico rispetto sia all'attuale situazione del commercio che vive un profondo periodo di crisi strutturale che ha i bisogni reali di una città e della sua popolazione che avrebbe più che mai bisogno di recuperare la normalità attraverso una rivitalizzazione del centro e dei quarti che lo compongono. L'amministrazione Biondi continua fedele, da anni ripete lo slogan del rilancio del cuore cittadino, salva poi agevolare principalmente la creazione di nuove iniziative lontane dal centro della città. Il sindaco deve dare, una volta per tutte, una spiegazione plausibile ad una cittadinanza che aspetta in vano da troppo tempo e soprattutto meritano risposta i titolari di attività commerciali che con coraggio continuano ad investire nelle zone centrali dell'Aquila nonstante la cronica assenza di uffici pubblici. Venire a sapere della riapertura di un pezzo di storia del commercio aquilano come il negozio di abbigliamento panarelli riempie il cuore di gioia e di orgoglio, eppure a tempo stesso siamo costretti a constatare che l'importanza del rilancio del centro storico dell'Aquila sia stata pienamente compresa dai commercianti, mentre ancora in giunta e in consiglio comunale c'è un inspiegabile immobilismo, conclude fedele. Si è costituito il comitato giovanile di Cambiamo il futuro Avezzano. Ne fanno parte Valerio Angeloni, Paolo Assetta, Francesco Bonanni, Fabio De Feudis, Paolo Del Ponte, Matteo di Genova, Maurizio di Genova, Mario Franchi, Giorgia Panei e Cristina Presco Toiu, coordinatore e il giovanissimo Matteo di Genova, studente di ingegneria all'Università dell'Aquila ed attivissimo in campo politico ed associativo. È la dimostrazione, si legge in una nota del movimento, che esperienze e novità possono non solo coesistere ma proficuamente collaborare per il bene del territorio e della comunità. Ai ragazzi del comitato sono giunti dal senatore Gaetano Quagliariello, dal vice presidente vicario del Consiglio regionale abruzzese Roberto Sant'Angelo e dai rappresentanti territoriali del movimento, i migliori auguri di buon lavoro. ConfCommercio L'Aquila comunica che su sollecitazione della Confederazione Nazionale e delle singole federazioni nazionali di categoria appartenenti a ConfCommercio, quindi Fipe, Fidelberghi, Federmoda, la direzione generale della CIAE, in considerazione dei disagi causati dalle misure precauzionali decise dal governo per far fronte alla recente emergenza sanitaria, ha deciso di differire la scadenza dei termini di pagamento degli abbonamenti per musica d'ambiente al prossimo 20 marzo. La nuova scadenza è valida per tutto il territorio nazionale. Il presidente Roberto Donatello ricorda inoltre che per usufruire dello sconto spettante ai soci ConfCommercio, in virtù della convenzione esistente con CIAE, è necessario richiedere o farvi di mare l'apposito certificato dagli uffici ConfCommercio di L'Aquila, in via 20 settembre 36, Avezzano via Garibaldi 139, Carzoli via Turano numero 70. L'intossicazione elettorale rischia di far perdere i finanziamenti per l'irrigazione della Piana del Fuscino, lo sostiene in un comunicato ConfCommercio L'Aquila. Chiarisce che la storia recente per la soluzione delle criticità legate all'uso e dalla disponibilità della risorsa idrica nella Piana del Fuscino ha questi punti fermi. I progetti presentati alla regione Abruzzo dall'autorità di distretto a conclusione di un lavoro durato 5 anni di studio ed ascolto di tutti i portatori di interesse. I progetti preliminari riguardano la rete rigua intubata sull'intero territorio della Piana del Fuscino, le vasche di laminazione per la difesa idraulica dalle tiene del fiume Giovenco e la realizzazione di un invaso di accumulo nella conca di Amplero. Per la realizzazione dell'intera opera, l'autorità di distretto ha stimato una spesa intorno ai 230 milioni di euro, mentre i soldi attualmente disponibili con il master plan ammontano a 50 milioni di euro. È del tutto evidente che l'insufficienza delle risorse disponibili costringe a fare scelte e dare delle priorità, fermo restando l'unitarietà degli interventi. Lo afferma Fabrizio Robene, presidente di Confagricoltura L'Aquia. Sia l'Arap che il Dipartimento Agricoltura, prosegue, hanno evidenziato forti criticità sul progetto dell'invaso di accumulo temporaneo, alias vasche di laminazione, dipendenti da fattori urbanistici, espropriativi ed ambientali legati alla scavo e dallo smaltimento delle terre di risulta. Questi aspetti avrebbero dilatato i tempi di approvazione del progetto esecutivo, per cui la Giunta regionale, con la delibera dell'ottobre scorso, ha dato priorità alla realizzazione della rete rigua sulla massima superficie consentita dalle risorse disponibili. Il progetto di fattibilità, predisposto dall'Arap e dal Consorzio di Bonifica, pur contenendo alcune criticità che devono essere spiegate agli agricoltori e la contrarietà del Comune di Pescina sul prelievo a monte del fiume Giovenco, estende a circa 9 mila ettari di impianto in riguo. Auspichiamo che in tempi rapidi si possano risolvere sul piano tecnico le criticità rilevate anche dal mondo agricolo e correre speditamente alla progettazione esecutiva. Faccio un appello al Comune di Pescina, concludolo bene, di far rimodulare la risoluzione presentata dal Consiglio regionale Paolucci e la proposta di delibera del Consiglio comunale, eliminando le richieste legate alla scelta fatta dalla Giunta regionale che attribuisce priorità all'impianto in riguo sull'intera piana del Fuscina. Da oggi, martedì 25 e per i prossimi 10 giorni, sarà sospeso il ricevimento del pubblico negli uffici del Comune dell'Aquila. Lo ha deciso l'amministrazione comunale come misura esclusivamente precauzionale a seguito della diffusione del coronavirus Covid-19 in alcune zone dell'Italia. La decisione è scaturita ieri nel corso di una riunione con il sindaco Pierluigi Biondi, che ha convocato su questo argomento, alla quale erano presenti assessori, consigliere comunali, dirigenti e funzionali dell'ente. In serata, a seguito di un incontro che si è tenuto in Prefettura, è stato dato il definitivo via libera a questi interventi. La disposizione riguarda in particolare il front office della ricostruzione privata, centro e frazioni, in via Avezzano, dei tributi a via Filomuso-Guelfi, lo sportello unificato che raccoglie stanze e dichiarazioni per il progetto case e di servizi del diritto allo studio di via Aldomoro, le delegazioni comunali e gli uffici che hanno generalmente contatto con il pubblico. Non saranno comunque interrotti i servizi che potranno essere gestiti con l'utenza attraverso la posta elettronica e le comunicazioni telefoniche. Preciso subito che si tratta di una operazione solo ed esclusivamente a scopo precauzionale, visto che al momento, e ci auguriamo anche in futuro, non ci sono casi conclamati di contagi né in città né in Abruzzo e tantomeno nelle regioni limitrofe, ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi. Tuttavia l'Aquila ha una situazione particolare, figlia del terremoto. Basti pensare che le attività nei cantieri della ricostruzione coinvolgono imprese provenienti da tutto il Paese e che vanno gestiti migliaia di alloggi realizzati nel post-sisma. Pertanto la mobilità in entrata e in uscita da e verso tutte le regioni italiane, proprio per ragioni connesse al sisma, è sostenuta. È comunque normale e credo coscienzioso è responsabile adottare delle misure che hanno un mero scopo preventivo. Resterà in funzione solo lo sportello di Via Roma, essendo dodato, ha spiegato ancora il sindaco Biondi, di vetri di separazione tra i dipendenti e gli utenti e dove, peraltro, si erragono servizi come le carte d'identità e del rilascio delle certificazioni. Oltre al gioco dei tagli dei collegamenti dell'Aquila-Roma, il centro-destra fa anche il gioco delle tre carte, perché oggi in commissione ha votato contro la risoluzione PD, la stessa passata anche con i voti della destra in senso al Consiglio Comunale Aquilano. Per il capogruppo PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci è un affronto incredibile per la città e per il territorio, probabilmente imposto da Giulianti. Qualcuno nella stanza di Bottoni non ha gradito che la politica facesse l'interesse delle comunità. La risoluzione era attesa a fermare una razionalizzazione ragionistica molto penalizzante per pendolari lavoratori e studenti che, con il nuovo piano di esercizio, si vedono sopprimere 15 corse tra feriali e festivi nei collegamenti con la Capitale. Ci siamo mobilitati immediatamente per tentare di bloccare una decisione avventata. La nostra, infatti, era una risoluzione di buon senso per impegnare il Presidente della Giunta regionale a sostenere, fino alla sentenza del Terrabruzzo, un piano di esercizio mortificante sia per il territorio aquilano che per quello terramano. La Regione, evidentemente, è decisa a portare a termine questa scelerata decisione di sopprimere numerose corse giornaliere, rifiutando anche il confronto con i rappresentanti delle istituzioni locali, le parti sociali ed i comitati dei pendolari per svolgere un'apposita istituzione della tecnica, con l'obiettivo di valutare l'inserimento all'interno delle reti dei servizi minimi di quelle corse dall'Aquila Roma, in cui vi è una scarsità della domanda e dove non c'è l'interesse dei privati a svolgere dei servizi sicuramente non remunerativi. La zona di Campotosto è stata colpita pesantemente dai due sismi del 2009 e del 2016 e non riesce ancora a ripartire, nonostante il tempo trascorso dagli eventi. Chiediamo, pertanto, un incontro urgente con il neocommissario straordinario alla ricostruzione, Onorevole Giovanni Legnini. Questa è la richiesta formulata al termine di un incontro informale e conoscitivo tra il vicepresidente vicario in Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo e alcuni consiglieri di minoranza del Comune dell'Alta Valle dell'Aterno. È necessario, anzitutto, chiarire le incongruenze venute sia a creare con la sovrapposizione delle norme e dei decreti emanati per i due eventi calamitosi che attualmente bloccano l'elogazione dei contributi. Le pratiche sono state esaminate da un punto di vista amministrativo, ma di fatto tutti i passaggi successivi sono fermi. È imbarazzante, per usare un eufemismo, questa situazione di totale stallo si era affrontato anche con gli altri comuni della zona, anch'essi colpiti dai medesimi eventi telurici che però hanno subito meno danni, hanno dichiarato i consiglieri comunali di minoranza Antonio di Canantonio, Herminia Alimonti e Giovanna Di Angelis. Abbiamo chiesto quindi a Sant'Angelo di farsi parte attiva nei confronti del commissario alla ricostruzione del centro Italia affinché si esamini la situazione di Campotosto definendo con urgenza un percorso che consenta alla comunità di ripartire con regole certe ma soprattutto chiare. Bene, abbiamo terminato. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie della gentile attenzione ed appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Grazie. 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 Grazie.